Ciao, mio nome è Martino Aldrigo, sono da IMT Bucharest, Romagna e questo lavoro è una ricerca internazionale tra IMT Bucharest, Romagna, l'Università di Bologna, Italia e la quarta Heraclion, Grecia. Questa è la sua postura è diode diodata di stagione di MIM, basato su l'oxidio di halfnium, che è leggera per la deteczione delle signazioni di raffa di raffa. La frequenza è una frequenza molto alta, fino a 3 terahertz. Può detectare segnali con potenza di input come meno 14 dBm e può essere facilmente integrato in processi CMOS compatibili per la integrazione monolitica in transciversa. Per lavorare con soli dispositivi è molto utile ma i miei colleghi da IMT, Bologna e Heraklion riusciti a ottenere una buona performance molto in grado di due progetti che supportano questa ricerca. NANOSMART, che è un progetto europeo 2020 e NANOFERRF, che è un progetto nazionale rumaniano. Iniziamoci dal modellamento teoretico del diodo, che è basato sul modello di Composite-Simmons. Iniziamoci dal modello molto avanzato tecniche nanotecniche. Abbiamo fabbricato questi diodini e poi mesuriamoci le sulle 40 GHz, che è la frequenza maximale in cui siamo interessati. Quindi il diodo ha una performanza molto buona performance, con una potenza molto bassa, di meno di 200 pico watt over square hertz. E una responsabilità di volto di 500 millivolt per millivolt. Quindi credo che è molto buona lavorare con questi dispositivi, che possono essere uscita per micro applicazioni. e davvero ringrazio alla Europea Macro Associazione per daremo l'opportunità di presentare questo lavoro, che possono avere una promessa in applicazioni nella prossima generazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.